Musica Femminicidio a Rosarno, uccisa una 35enne ucraina dal compagno. Rintracciato e arrestato in Austria il quarto presunto scafista del naufragio di Steccato di Cutro. Inaugurato al Policlinico di Catanzaro un mammografo 3D di ultima generazione. Ha soverato Giuseppe Pipicelli, festeggia la stella d'oro dal CONI per merito sportivo. Ben ritrovati con l'informazione di Calabria TV. Femminicidio a Rosarno nel Regino, una donna di 35 anni, di nazionalità ucraina, è stata uccisa dal compagno. Una donna di nazionalità ucraina di 35 anni è stata uccisa a Rosarno nell'appartamento in cui viveva col compagno, anche lui ucraino. L'uomo è stato fermato nella notte dalla polizia dopo alcune ore di ricerca ed è sospettato di essere l'autore dell'omicidio. Il corpo è stato trovato nella tarda serata di ieri, alla vigilia del giorno della festa della donna, dal proprietario dell'appartamento in cui la vittima viveva. Sul corpo della donna, da un primo esame del medico legale, sono stati riscontrati molti segni di violenza e di colluttazione, anche pregresse. Sul posto è intervenuta anche la polizia, dove si è subito resa conto alla ricerca del compagno della vittima, che nel frattempo aveva fatto perdere le sue tracce. Avviate le ricerche, è stato individuato e fermato nelle campagne di Rosarno. La coppia viveva da molti anni a Rosarno, in un appartamento di via Medma, ed erano immigrati irregolari. Il compagno della donna lavorava stabilmente in una ditta del luogo. Secondo le prime ricostruzioni, i due sarebbero alcolisti riconosciuti e chi abitava vicino ha raccontato alla polizia che spesso da quella casa si udivano discussioni eccese. Gli investigatori non escludono che proprio durante una di queste liti l'uomo possa aver colpito la donna fino ad ucciderla. Le indagini sono condotte dagli agenti del commissariato di Gioia Tauro con il coordinamento della procura della Repubblica di Palmi. E' stato rintracciato e arrestato in Austria un ufo turco di 28 anni, ritenuto il quarto presunto scafista dalla procura di Crotone, uno dei responsabili del naufragio avvenuto a Steccato di Cutro, il 26 febbraio scorso. L'uomo si era reso reperibile già dopo il naufragio. Dalle indagini emerge che gli scafisti alla guida dell'imbarcazione naufragata erano sei, di cui tre già in carcere, uno disperso e uno tra le vittime del naufragio. E' stato arrestato il quarto presunto scafista dell'imbarcazione carica di migranti, il cui naufragio a Cutro all'alba del 26 febbraio scorso ha provocato la morte, fino ad ora accertata, di 72 persone e un numero ancora imprecesato di dispersi. Si tratta di un cittadino turco, Guk Ufuk, di 28 anni, che dopo il naufragio era riuscito ad allontanarsi e a rendersi irreperibile. Ufuk, secondo quanto si è appreso, è stato rintracciato in Austria. Sul conto di Gun Ufuk pendeva l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Crotone, Michele Ciociola, dopo la convalida dei fermi dei presunti scafisti. Gli altri tre arrestati sono un turco e due pakistani, uno dei quali minorenne. Ufuk sarebbe stata la persona a cui era affidato il compito di condurre il caicco, che a poche decine di metri dalla riva, davanti alla costa di steccato di Cutro, ha urtato contro una secca, scaraventando in mare il suo carico umano. Il cittadino turco, inoltre, avrebbe svolto anche le funzioni di meccanico, intervenendo più volte quando il motore dell'imbarcazione ha manifestato qualche problema. Al momento non si hanno particolari sugli elementi che hanno consentito agli investigatori di rintracciare in Austria e di arrestare lo scafista. È stato bloccato il trasferimento di tutte le salme delle vittime del naufragio di Crotone al cimitero musulmano di Bologna. Grazie alla mediazione della prefettura si è riusciti a dare una risposta alle famiglie che hanno protestato contro il trasferimento. A Bologna andranno con l'accordo delle famiglie 14 salme, per le quali il comune di Cutro ha già rilasciato i certificati necessari. Altre 10 partiranno forse giovedì. Le 17 salme delle vittime, per le quali le famiglie hanno deciso il trasferimento in Afghanistan, resteranno a Crotone, fino a quando non saranno superati i problemi burocratici. Il governo, come ha spiegato la prefetta di Crotone, Maria Carolina Eppolito, insieme alla regione Calabria, sosterrà i costi per il rimpatrio per tutte le famiglie delle vittime. La notizia del risultato è stata raggiunta anche grazie all'intermediazione dell'Associazione Mobilitazione Generali Avvocati, rappresentata dall'avvocato Francesca Pesce, ed è stata comunicata ai familiari delle vittime proprio dal sindaco di Crotone, Vincenzo Voce. La protezione civile ha messo a disposizione degli autobus per trasportare i parenti delle vittime a Bologna. Un ordigno di notevoli dimensioni è stato trovato in una zona di campagna, nei pressi di Via Muraglia, un'area periferica di Polistena. Sul posto è intervenuta la polizia, che dopo aver isolato la zona ha fatto intervenire gli artificieri della questura di Reggio Calabria, i quali, dopo aver messo in sicurezza l'ordigno, lo hanno fatto brillare nei pressi dell'area industriale di Polistena. L'ordigno era composto da polvere da sparo ed era collegato ad un dispositivo elettronico. Sono in corso indagini per capire chi potesse essere l'obiettivo dell'intimidazione. Cambiamo argomento. Nella giornata dedicata alle donne è stato inaugurato al Policlinico di Catanzaro, in località Germaneto, un mammografo 3D con tomosintesi, in grado di ottimizzare il percorso per la cura del tumore al seno. È un regalo alle donne, tutte le donne che afferiranno all'azienda Tulbecco, però è un regalo che aspettavamo da tanto tempo. Avere un mammografo aggiornato con i tempi credo che sia una delle cose fondamentali per combattere la patologia tumorale a livello del seno. La diagnossica viene fatta prima, quindi sicuramente è molto più ad alti livelli, come avviene in tutte le strutture dove ci si occupa di questa patologia. Questi apparecchi in molti posti vengono sostituiti ogni due anni. Penso che noi ci abbiamo messo molti anni di più, però forse chi ha dato la spinta per tutto ciò, e glielo dobbiamo riconoscere, è il dottore Vincenzo, la regina che ci ha messo al mio cuore a cercare di risollevarci principalmente questa azienda, ma ora l'azienda Renato Tulbecco. Speriamo che vada a buon fine quello che tutti noi desideriamo, parla a nome di tutti i colleghi dell'Ateneo, per poter costruire veramente un gruppo di lavoro serio che dia dignità alla città di Catanzaro e a tutta la sanità calabrese. Intanto oggi è una giornata importante, anche simpolica, per cui abbiamo fatto di tutto affinché fosse oggi il giorno dell'inaugurazione di una tecnologia importante, innovativa, ultima generazione, con tomosintesi, quindi per noi è un momento di grande soddisfazione poter dotare il Policlinico di uno strumento di tecnologia all'avanguardia. È solo l'inizio, però dobbiamo assolutamente rinnovare il parco tecnologico di questo bellissimo Policlinico. Quindi è un segnale di attenzione verso le donne, ma soprattutto verso la prevenzione. Noi dobbiamo riscoprire la prevenzione, a partire da quella primaria, secondaria e terziaria, soprattutto nel campo oncologico. Perché primaria? Perché gli stili di vita dobbiamo veramente incominciare seriamente ad essere coerenti con stili di vita salubri, stili di vita che aiutano anche le persone a stare meglio. Gli screening sono importanti. Dopo la pandemia dobbiamo riprendere seriamente un percorso che anche la Calabria su questo deve recuperare. Per cui gli screening oncologici, a partire da quello mammografico. E poi anche la prevenzione terziaria, che spesso viene sottovalutata, ma noi dobbiamo anche, una volta diagnosticato il tumore, dobbiamo stare attenti alle recidive. Quindi, voglio dire, è un discorso di presa in carica del paziente oncologico. Cambia perché, diciamo, è una politica che stiamo mettendo in campo. Quella proprio di ridurre le liste d'attesa. Perché le liste d'attesa sono una criticità dell'Italia, non solo della Calabria. Per cui tutto va nella direzione di dare, in maniera tempestiva, soprattutto al paziente potenziale oncologico, risposte immediate di diagnosi. Assolutamente. Ormai, insomma, vedo il Magnifico, che ringrazio sempre per la sua attenzione e collaborazione. E quindi, questo va nella prospettiva che diceva lei. Un grande policlinico, un policlinico non solo di Catanzaro, della Calabria e del Mediterraneo. Noi dobbiamo porci al centro di una grande, grande idea di salute. Anche da questo punto di vista, il policlinico, con una dotazione di posti letto importanti, oltre l'800, può diventare un grande hub. E quindi dobbiamo tutti investire su questo. Il Lions Club di Vibo Valencia, insieme all'amministrazione comunale, nella giornata internazionale dedicata alla donna, hanno organizzato un incontro per riflettere sui problemi causati dalle droghe da stupro, ormai presenti anche nella nostra regione. Vi prego, non chiamiamo la festa della donna, perché non c'è nulla da festeggiare. L'8 marzo è la giornata internazionale dei diritti delle donne. Una giornata di riflessione sul percorso che, nei secoli, le donne hanno dovuto affrontare per la loro emancipazione, per l'uguaglianza di genere, per i diritti riproduttivi e la violenza e gli abusi contro di esse. Quindi non chiamiamo la festa, ma facciamo di tutto affinché non ci siano più diseguaglianze e le donne abbiano uguali diritti a tutti gli altri esseri umani. E a proposito di riflessioni su temi scottanti, il Lions Club di Vibo Valencia, insieme agli assessorati comunali, alle politiche sociali e alla cultura, ha voluto organizzare un incontro che si è tenuto all'interno della quarta commissione consigliare sul tema droga, stupro, conseguenze. Noi Lions ci siamo occupati quest'anno di portare nelle scuole, scegliendo una fasce d'età tra i 15 e i 19 anni, il tema operativo riguardante la somministrazione di droghe e conseguente stupro, perché volevamo preparare i ragazzi a quello che potrebbe essere un pericolo nascosto, ma più frequente di quanto non si possa immaginare. Non è un service, ma un tema operativo, perché affronta la tematica da ogni angolazione, a partire da quella medica, concludendo con dei suggerimenti che sono concreti di prevenzione, parlando appunto dei rischi sia medici che legali e dando dei suggerimenti su come riuscire anche a venire fuori da un eventuale, quando si è vittime di violenza, rivolgendosi ad un'associazione che è attivamente coinvolta, che è molto attiva sul territorio, lo sportello è appunto a Pizzo, all'interno del comune di Pizzo, e fornisce supporto sia psicologico che legale alle vittime di stupro. I ragazzi vengono allertati da ogni angolazione, quindi affrontiamo ampiamente, somministriamo dei test di ingresso per capire quali siano le loro conoscenze e forniamo una brochure in formato PDF che invitiamo i ragazzi a diffondere, per cui la nostra attività lionistica si amplifica, non ci rapportiamo soltanto con pochi ragazzi, ma con tutti i ragazzi che potrebbero entrare in contatto con i ragazzi che ci hanno ascoltato. Questo è quanto, noi Lions siamo sul territorio per servire e ci auguriamo di poterlo fare sempre con tematiche che possano essere utili al territorio e possano essere utili ai giovani che sono il nostro futuro. L'Istituto Tecnico dei Filippis di Vivo Valencia celebra l'8 marzo, presentando agli studenti i modelli femminili di successo. Come ogni anno è forte il coinvolgimento della società intera chiamata a raccolta per prendere parte le numerose ed articolate iniziative che si alternano in occasione della Festa della Donna ogni 8 marzo. Non è da meno la città di Vivo Valencia che segnala un pullulare di attività lungo tutto l'arco della giornata. Di particolare significato l'iniziativa dell'Istituto dei Filippis che ha organizzato un incontro denominato Mimose Viventi, una straordinaria carrellata di donne di successo nei vari settori della vita. Dallo sport con la campionessa parolimpica Anna Barbaro e la campionessa di bodybuilding Sara Suriano al medico Milena Barone alla psicologa Mariela Colucci alla letterata Giovanna Esposito. È stato scelto di offrire agli studenti una chiave di lettura diversa dal solito, più propositiva attraverso l'esempio concreto di chi con impegno, costanza, sacrificio è riuscita a realizzarsi con successo. Significativo il particolare che preside dell'Istituto dei Filippis sia una donna, Maria Francesca Durante. A volte anche le riflessioni più importanti, soprattutto se ripetute periodicamente, possono risultare noiose, possono risultare ripetitive, ridondanti. Per questo abbiamo deciso di dare un taglio diverso a questi incontri e lasciare che fossero gli esempi diretti a parlare attraverso la testimonianza vive e sincera di chi lotta ogni giorno per essere ciò che desidera essere contro ogni forma di pregiudizio, contro ogni bavaglio, contro ogni difficoltà. Ed è proprio per questo che oggi qua abbiamo delle campionesse, campionesse dello sport, campionesse nella vita, di coraggio. Sono proprio queste le nostre mimosse viventi. E ora cambiamo argomento. La mensa dei poveri, Padre Pio da Pietralcina, situata nel centro storico di Crotone e i suoi volontari, guidati da Donenzio Limina, assicurano il proprio sostegno a quanti sono in difficoltà, accogliendo ogni giorno centinaia di persone. Donenzio, questa ecatombe ha toccato l'umanità, una ferita profonda sulle coste crotonesi. E non è mai mancata la generosità di questo popolo, come ha affermato anche il Vescovo di Lamezia, Don Serafino Perisi, che conosce, Steccato di Cutro. Crotone, sempre ultima nei servizi, ma forse prima nei servizi del cuore. Io questo slogan lo dico da anni, che se le classifiche ci mettono all'ultimo posto, Crotone è prima in solidarietà. Ma non lo dico per un vanto provinciale, ma lo dico per aver sperimentato con la mensa di Padre Pio, che è aperta dal 1996, concretamente cosa vuol dire solidarietà. Con partecipazione, con passione, persone che anche non direttamente interpellate, si sentono di potere e volere dare una mano agli altri. In una città che conosce bene il fenomeno migratorio, prima dell'Africa e dei paesi dell'Asia, anche dall'Albania. Dall'Albania, da tante altre parti. Noi siamo stati migranti, siamo stati in tante parti d'Europa, alcune stragi, per esempio in Belgio, come non ricordare, tanti episodi che hanno trovato proprio la nostra provincia di Crotone, la zona del Crotonese, le zone del Crotonese coinvolte in queste tragedie. Noi siamo stati migranti e siamo tutti migranti. Il Papa ci dice in una preghiera bellissima per le migrazioni che noi uomini siamo migranti verso il Regno dei Cieli, tutti pellegrini, tutti in viaggio. La conferenza episcopale italiana a Crotone ha esordito citando una frase della Genesi dove è tuo fratello, parlando anche e soprattutto dell'impegno di questa mensa dei poveri di Crotone che dicevamo ha conosciuto le migrazioni, ma io le chiedo a Crotone in tutti questi anni, dal 96, giorno in cui ha aperto la sede, come sono cambiate le povertà? Le povertà si sono ampliate, nel senso che nella prima location dove eravamo prima nella la mensa, dove era ubicata la mensa era nel centro storico, avevamo una utenza che era soprattutto fatta di clochard, di rom, di alcune persone che erano sbandate perché alcoliste oppure vittime della droga, assuntori di droga e poi poche persone di Crotone. Ora si è ribaltata la situazione, si è ribaltata nel senso che gli immigrati e gli sbandati rispetto a prima sono molti di meno e quello invece che è aumentato è il numero delle persone, l'utenza tipica locale del crotonese della città di Crotone questo indica che cosa? Indica che i bisogni crescono, che la mancanza di lavoro si fa sentire, che le risorse vengono meno per cui ecco c'è una letteralmente fame ecco una letteralmente fame che si explica anche nei servizi che noi possiamo erogare come mensa per i nostri fratelli. Siamo giunti all'ultima notizia Soverato ha festeggiato Giuseppe Pipicelli per la sua stella d'oro del CONI al merito sportivo Dopo aver ricevuto quella di bronzo e quella d'argento per Giuseppe Pipicelli è arrivata anche la stella d'oro del CONI al merito sportivo la più alta noreficenza sportiva del Comitato Olimpico Nazionale italiano un riconoscimento meritato per un uomo che ha dedicato la sua vita allo sport Giuseppe Pipicelli nella vita di tutti i giorni svolge la professione di medico-endocrinologo professione che negli anni ha avuto anche una notevole rilevanza nel mondo sportivo portandola a diventare il vicepresidente dell'Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici Soverato la sua città ha voluto celebrarlo con una giornata a lui dedicata in quanto il primo cittadino a ricevere un così importante riconoscimento e soprattutto perché sta tenendo alto il nome della città Per me oggi è una giornata molto importante essere ricevuto qui dal sindaco e dalla giunta comunale perché vengo premiato per la Stellatore del Cone la Stellatore del Cone è la più alta onorificenza al merito sportivo che viene data ai dirigenti con almeno 40 anni di anzianità e io sono da 50 anni nello sport prima come arbitro a livelli nazionali commissario di Serie A sostituto procuratore federale e nella commissione antidoping del calcio e ovviamente vorrei dire una cosa importante per me e per la città di Soverato io sono il primo soveratese nella storia dello sport ad essere insignito della Stella d'Oro del Cone e nonostante questo il mio impegno continua e mutato e attualmente sono tesserato come dirigente del nuovo basket Soverato che milita nel campionato di Serie D regionale della Calabria inoltre nell'ambito sociale io sono vicepresidente italiano dell'Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici e ci impegniamo da oltre 30 anni nell'inclusione dei pazienti diabetici nello sport con risultati molto altisonanti in alcuni casi perché abbiamo anche atleti olimpici con diabete Termina qui la nostra informazione e grazie per averci seguito ora spazio alle notizie dall'Italia e dal mondo in questi decenni la Repubblica ha fatto progressi enormi sul piano legislativo e su quello della diffusione di una cultura della parità tra le istituzioni e nella società occorre un impegno ulteriore delle istituzioni della comunità civile delle donne e degli uomini insieme per rimuovere ostacoli confutare pregiudizi operando con azioni concrete contrastando con forza le inaccettabili violenze e i femminicidi che sono crimini gravissimi da sanzionare con il massimo di severità Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale dove si sono svolte le celebrazioni per la giornata internazionale della donna sottolinea come la strada per il raggiungimento di una parità effettiva costituita con pienezza da diritti e da opportunità è ancora lunga e presenta tuttora difficoltà ma aggiunge non può esservi vera libertà se non è condivisa dalle donne e dagli uomini anche Papa Francesco oggi all'udienza generale rende omaggio alle donne per il loro impegno a costruire una società più umana Il mondo ha detto il pontefice sarà migliore se tra uomini e donne ci sarà parità nella diversità messaggi quelli lanciati in occasione dell'8 marzo in cui vengono resi noti anche i numeri dei femminicidi numeri che fanno ancora paura in Italia nel 2022 secondo i dati della direzione centrale della polizia criminale sono state 125 le donne uccise di cui 103 in ambito familiare e nel 2023 le cose non vanno meglio i casi analoghi sono già stati 20 L'Ucraina nega il coinvolgimento con il sabotaggio del gasdotto Nord Stream dopo che il New York Times lo ha attribuito a un gruppo filo ucraino a dirlo al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della difesa dell'Unione Europea a Stoccolma il ministro della difesa ucraino Rednikov pur sottolineando che non ci sono prove che il presidente Zelensky il suo governo o i comandi dell'esercito fossero a conoscenza dell'operazione intanto mentre Kiev chiede più armi in tempi brevi il gruppo di mercenari russi Wagner ha annunciato di aver preso il pieno controllo della parte orientale di Bakhmut città da mesi sotto assedio il segretario generale della Nato Stoltenberg anche lui a Stoccolma per il vertice non esclude che Bakhmut possa cadere nei prossimi giorni ma minimizza gli effetti di un'eventuale cattura della città simbolo della resistenza le salme delle vittime del naufragio di Crotone saranno tutte trasferite al cimitero musulmano di Bologna la decisione del ministero dell'interno ha colto di sorpresa le famiglie che a Crotone hanno manifestato davanti al Palamilione il palazzetto dello sport dove è stata allestita la camera ardente dopo le proteste il Viminale ha però fatto sapere che il trasferimento a Bologna è una soluzione provvisoria e non definitiva presa per dare immediata dignità alle salme anche perché in Afghanistan non è semplice procedere nell'immediato al rimpatrio il ministero dell'interno ha inoltre assicurato che si procederà considerando le richieste di ogni nucleo familiare intanto è atteso per domani a Cutro il consiglio dei ministri sull'immigrazione il caso cospito approda alla Corte Costituzionale la consulta ha fissato per il 18 aprile l'udienza pubblica in cui sarà trattata l'ordinanza con la quale la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha sospeso il processo all'anarchico per i due ordigni davanti alla scuola lievi carabinieri di Fossano e ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione a una norma del codice penale intanto secondo il medico legale della difesa cospito in sciopero della fame contro il regime del 41 bis a cui è sottoposto avrebbe perso ulteriormente peso da questo punto di vista detto la situazione si sta facendo grave la procura del Congo ha chiesto la pena di morte per i sei uomini processati da un tribunale militare accusati dell'omicidio dell'ambasciatore Luca Attanasio avvenuto nel febbraio del 2021 nell'est della Repubblica Democratica del Congo da ottobre i sei imputati tranne il capo del commando tuttora latitante sono in carcere con accuse a vario titolo di omicidio associazione a delinquere e detenzione illegale di armi e munizioni da guerra l'imputazione che giustifica il ricorso al tribunale militare nativo di Saron e originario di Limbiate Luca Attanasio è stato ucciso in un attentato durante una missione diplomatica in un'imboscata attesa da criminali a un convoglio del programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite con cui viaggiava l'ambasciatore nell'agguato morirono anche il carabiniere Vittorio Iacovacci e il loro autista Mustafa Milambo dal di vittore Grazie a tutti.